Musica Rieccoci qua al diario, nuova puntata, è tornata a trovarci Emanuela Vacca che abbiamo avuto qualche giorno fa in veste di fotografa e che oggi riabbiamo qua perché è già stata da noi altre volte in veste di scrittrice dal racconto per immagine al racconto attraverso le parole il tuo ultimo libro che ha avuto molto riscontro non solo a livello locale è Vanina la Zoppa da cui è stato tratto anche un lavoro teatrale che va in strada ma non solo poi magari vedremo scoprire qualche immagine ma come l'altra volta ti ho chiesto quando hai iniziato a fotografare questa volta ti chiedo quando hai iniziato a scrivere Intanto buonasera a tutti, grazie di avermi invitato dunque io scrivo praticamente da sempre dai 18, 19, 20 anni ho iniziato a scrivere articoli, poi racconti, novelle sempre tenuti nel cassetto finché un amico mi ha detto ma insomma questi scritti devono vedere la luce insomma abbi coraggio buttati e pubblica ho iniziato con dei giornali a carattere intellettuale piuttosto che magari letterario come Caffè Matic che era una rivista letteraria scrivendo articoli poi ho partecipato a dei concorsi, li ho vinti mi hanno pubblicato delle cose e da lì poi ho iniziato con i romanzi il romanzo è una cosa completamente diversa dalla novella, dal racconto è molto più impegnativo ma hai scritto anche un romanzo storico dove io mi ci sono provato a fare dei racconti storici però ambientati nell'ottocento e ti rendi conto che quando immagini una scena la devi immaginare nel contesto dell'epoca perché se una persona la fai prendere il treno per andare da qui a lato ti devi accettare che esisteva effettivamente un treno che ti portava da una parte all'altra tu hai incontrato qualche difficoltà nella tua trasposizione? Sì, ho incontrato molte difficoltà soprattutto nel chiedere a determinate biblioteche a determinati enti se potevo consultare i loro archivi e devo dire purtroppo nelle diocesi, nelle biblioteche delle varie parrocchie insomma sono stati un po' così, insomma non tanto disponibili poi dopo no, dopo si è aperto il canale Intanto stiamo vedendo così le immagini della trasposizione teatrale del tuo libro Vanina la Zopa che è andato un po' per le vie, per le piazze di un bel po' di paesi che hanno dato a compresa ma non solo Sì, infatti la trasposizione teatrale di alcune scene del mio romanzo dove gli attori appunto interpretano in un percorso itinerante nei castelli e anche nei borghi quello che era le fasi più importanti della vita di questa strega perché parliamo di una strega una strega vissuta realmente nel 1519 cioè morta nel 1519 e io appunto ricostruisco la sua storia romanzata perché purtroppo all'epoca, ripeto, ho trovato parecchie porte chiuse per quanto riguarda le notizie, le fonti storiche ecco le fonti storiche sono state invece nel secondo libro che ancora non è stato pubblicato è ancora in fase di revisione editoriale invece si sono spalancate tutte le porte anche la diocesi di Cremona mi ha accolto a braccia aperte e adesso, un po' tardi forse però adesso so tutto quello che è successo all'epoca perché questa storia è finita male di Vanina però ci sono anche dei casi di streghe che invece poi sono state streghe tra virgolette perché in fin di conto erano solamente delle povere donne magari un po' originali nella loro condotta di vita che sono state però poi riabilitate o assolte diciamo così sì, esatto e purtroppo Vanina insieme alle sue tre amiche due amiche è stata mandata al rogo e proprio a Cassano d'Adda dove vivo e dove ho incontrato lei ho incontrato il personaggio che sul suggerimento del sindaco Roberto Maviglia mi ha detto ma perché non scrivi una storia? è stato quello l'input che mi ha poi mandato ad approfondire la cosa il seguito invece le altre donne che sono state arrestate e sono state tantissime 156 ne hanno arrestate tra donne, preti anche dei preti hanno arrestato canonici sono state tutte assolti quelli del secondo processo tra l'altro non eravamo nel periodo del meglio evo più o meno buio ma eravamo in pieno rinascimento esatto e vedo che c'era la risposta della Chiesa Cattolica al movimento protestante che si stava sviluppando in Germania quindi era un momento un po' sì io direi che lei è capitata male in un momento proprio brutto buio della storia della Chiesa è probabilmente è stata uno dei un capro espiatorio di quello che era anche la tensione che si viveva nella Chiesa Cattolica e da parte e quindi insomma è stata perché proprio nel 1519 mi sembra che Lutero affigge le sue 92 sì, qualche anno più però sì le sue tesi le sue tesi e quindi comunque siamo in periodo che poi hanno tutta una premessa perché la Chiesa Cattolica era un periodo particolarmente c'era il traffico delle indulgenze era un periodo abbastanza tribulato ma come tutte le realtà umane vive di eccellenze e di miserie ma anche Cassano D'Adda ad esempio riesce il signore che viene dopo viene nel 1521 quindi questo questo per l'interregno che c'è stato tra il 1518 e il 20 dove non c'era nessuno anche lì insomma è stato un periodo difficile anche per la città di Cassano quello sì, sono stati anni in cui non avevano marchesato dei Bonelli a Cassano insomma ogni periodo storico ha le sue caratteristiche sì, sicuramente sicuramente fa effetto magari pensare che mentre c'era un genio come Leonardo perché l'anno scorso nel 19 erano i 500 anni dalla morte di Leonardo mentre c'era Raffaello mentre c'erano anche queste cose sì, purtroppo ce n'erano tante non era solo Cassano ma anche a Venegono dove io ho trovato le ricostruzioni dei processi a Venegono Superiore anche lì diverse donne sono state condannate che poi erano donne che poverette magari conducevano una vita un po' estrosa un po' in margine della società magari si intendevano anche di di erboisteria sì, erano erano donne erbane che appunto curavano con le erbe vivevano un pochino separate dalla società diciamo oppure erano delle mammane le mammane erano delle levatrici e anche loro erano erano come si dice attenzionate no? perché facevano nascere i bambini se un bambino nasceva morto era colpa loro avevano stregato il bambino la mamma insomma c'era molta superstizione moltissima ci sono altri personaggi che hai affrontato nel corso della tua carriera da scrittrice oltre al periodo delle streghe o c'è un particolare periodo storico che ti piacerebbe approfondire? allora diciamo che sono molto appassionata di questo periodo qua del 500 e 400 per via appunto dell'inquisizione e delle streghe adesso sto il mio romanzo che è in itinere in questo momento invece parla dell'inquisizione degli inquisitori a Milano quindi a me interessa anche molto il settore ecclesiastico della chiesa non solamente le streghe tutti e due i versanti sono molto interessanti nella chiesa appunto si possono scoprire eccellenze esatto santità e molti e purtroppo anche come in tutte le realtà umane personaggi di dubbio se non completamente negativo valore certo come il buono c'è dappertutto come il cattivo anche le streghe erano veramente streghe anche le streghe facevano realmente del male non è vero che erano tutte bugie c'erano anche delle donne che buttavano i malocchi che facevano i riti i rituali quindi non sono tutte sì anche se erano riti di superstizione esatto ma c'erano delle streghe che avevano effettivamente ammazzato qualcuno che avevano loro ci provavano secondo me poi che ci riuscissero non lo so sicuramente qualcuno ci ha provato a fare queste cose è bello scrivere perché si riuniscono due gioie parlare da solo e parlare una folla lo diceva Cesare Pavese devo dire che mi trovo abbastanza d'accordo su questa cosa perché la scrittura è prima innanzitutto sei tu che vuoi dire qualcosa e poi questo qualcosa se ti soddisfa lo porti a conoscenza di una platea più ampia sì devi avere voglia di rischiare nel senso che conosco tante persone che hanno i romanzi nel cassetto e non osano farli vedere è importante sapere che se tu fai vedere una cosa al mondo quella cosa è passibile di comunque di critica quindi può piacere come non piacere e devi riuscire a sopportarne diciamo il rischio quello che non riesco a capire è come mai in Italia ci sono più libri pubblicati che non libri letti perché in verità siamo uno dei paesi più in alto nelle classifiche per titoli editi ma purtroppo siamo abbastanza in fondo per quanto riguarda la lettura ci sono dei titoli magari eclatanti che magari hanno ben poco di sostanza ma perché scritti da questo o quel personaggio vendono molto e libri che invece gradevoli che invece si trovano in fondo sì c'è da dire che scriviamo anche un po' troppo sì infatti che secondo me scriviamo un po' troppo e leggiamo poco in compenso quindi secondo me sarebbe da incentivare un pochino la lettura lo dico da scrittrice ma perché io ho passato l'adolescenza nelle biblioteche a leggere io ho passato fino e continuo a leggere tuttora forse più su internet però comunque io sono anche una canita lettrice perché prima secondo me di essere scrittore devi essere anche un grande lettore assolutamente sì Oriana Fallaci diceva che non scriveva mai alla svelta di getto sono una scrittrice lenta cauta sono anche incontentabile tu come ti defineresti sono io sono una scrittrice che scrive di getto però poi rivedo parola per parola e non una volta tante volte scrivo per me stessa perché mi piace tantissimo scrivere sì cos'è che ha detto la Fallaci ha detto una cosa sono una scrittrice lenta una scrittrice cauta e anche incontentabile incontentabile anch'io sì assolutamente incontentabile non rivedo sempre quello che ho scritto se lo rileggo dopo un anno che l'ho scritto non mi piace non mi piace lo rifarei da capo che uso fai degli aggettivi a me piace molto ci sono certe parole un po' desuete che è bello far riemergere un po' dalla polvere della storia ne usi sì a me piace molto la scrittura un pochino aulica nel senso buono nel senso elegante sì esatto elegante comunque sì a me piace la scrittura un po' come si può dire no comunque elegante va bene come termine perché comunque uso gli aggettivi li uso ma non tantissimo prediligo la scorrevolezza dell'azione perché ho sempre il terrore che sia noi chi legge ho sempre questa paura e un'altra cosa che personalmente non apprezzo è l'uso di termini stranieri quando si può usare una parola italiana che definisce la stessa realtà lo stesso sono d'accordissimo oppure ci ritornano dall'inglese dei termini che sono latini e vengono sporcati di anglosassone e poi usiamo come mass media come devolution termini che sono latini in origine non capisco perché dobbiamo sporcare visto che abbiamo un latino che è una lingua perfetta e che se studiassimo forse di più le nostre origini greco-latine scopriamo che ogni parola che usiamo non è un vero e proprio sinonimo ma sempre una sfumatura che è la differenza dall'altra sì sono d'accordissimo mi trovo perfettamente d'accordo e io credo che dovremmo rivedere un attimino un po' dove focalizziamo l'attenzione perché comunque riscoprire l'antico riscoprire il classico secondo me starebbe stupendo solo che purtroppo lo fanno in pochi va bene Emanuele grazie di essere tornata tra noi ti attendiamo magari per la prossima pubblicazione quando sarà speriamo presto grazie di aver partecipato e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito grazie a voi buona serata grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.